Il primo maggio, lavoratori italiani, segna un grande giorno per noi. Occorre che segni un cammino in avanti per la libertà dalla paura, così che la fabbrica sia veramente fabbrica di lavoro e di dignità umana. Ecco perché le ACLI hanno proposto la trasparenza delle politiche salariali e sindacali. Ecco perché per una programmazione di lungo periodo delle rivendicazioni e per una programmazione anche delle nuove conquiste normative. In questo siamo d'accordo con recenti proposte avanzate. Si tratta di fare una marcia in avanti su due binari paralleli. Il binario del sindacato e la recente approvazione dell'accordo interconfederale sulle commissioni interne sta a dimostrarlo, ma anche sul binario politico. Ed ecco perché noi riteniamo che vada sostenuto e appoggiato il disegno di legge sulla giusta causa. Cresce così la responsabilità, il peso, la partecipazione del movimento operaio. Anche Sua Santità Paolo VI ha richiamato il mondo del lavoro alla sua missione, quella di creare una società nuova di uomini liberi e fratelli. Investe così la nostra responsabilità, tutti i piani, i metodi, gli strumenti della società democratica.